Quanto fa caldo! Non mi va nemmeno il cappuccino a colazione, ma forse ho trovato una soluzione. Latte con cubetti di caffè, quindi un caffè latte gelato. Geniale! Cioè non è che facciamo un gelato al gusto di caffè latte, sia chiaro. Facciamo un caffè latte, ma molto molto freddo perché i cubetti che mettiamo nel latte sono fatti con il caffè. E quindi gli ingredienti sono latte, caffè e zucchero. Versare il caffè zuccherato a piacere nello stampino per i cubetti di ghiaccio. Lascia raffreddare i cubetti nel freezer per una notte intera. Poi versarli nel latte. Buongiorno a tutti, sono le sette e mezza del mattino e fa caldo, quindi non va data la mia faccia. Per fortuna io ho il mio latte e caffè congelato. Vedete, i cubetti di ghiaccio sono fatti con il caffè, quindi il latte non è apposo, ma è perfettamente miscelato con il caffè. Ora mi bevo questo litro di latte e caffè e spero di riuscire a superare questa giornata torrida. Buona estate a tutti e buona colazione. Ciao! Grazie a tutti!